L'esecutivo dell'area tematica attività culturali del registro comunale di Padova delle associazioni, con il sostegno dell'assessorato alla cultura, organizza la manifestazione Patavinitas 2021, vetrina delle associazioni culturali, nei giorni venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 novembre 2021, mostre già dall'8 novembre. L'obiettivo della manifestazione è dare visibilità le associazioni culturali, offrendo alla cittadinanza un'esposizione dove le diverse realtà, usufruendo di spazi messi a disposizione dall'amministrazione, potranno farsi conoscere con microeventi dai contenuti più vari. 51 le associazioni animate da volontari e professionisti che ogni giorno operano per costruire, comunicare, condividere l'arte, la musica e la cultura in genere. 8 i siti della manifestazione, centro culturale Altinate San Gaetano, chiesa di San Gaetano con la sala dei Tiatini, chiesa di Santa Caterina, l'oratorio dei Colombini, corso del popolo con le sue architetture, piazza del santo e i suoi portici, le vie del centro storico, l'argine del piovego. 52 diversi microeventi, concerti, corali, dirici e strumentali, conferenze, presentazioni, balli, visite guidate, percorsi artistici, mostre d'arte di fotografia e documentalistiche, cortometraggi, intrattenimenti per bambini e famiglie anche in lingua spagnola e francese, letture recitate, teatro e poesia, rassegne fotografiche commentate, cineforum, giochi da tavolo, percorsi in bicicletta, sfilate in abito storico e ancora laboratori d'arte. Gli eventi sono ad ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti con necessità dell'esibizione del Green Pass. Il programma dettagliato della manifestazione è già disponibile, sarà integrato da info e dettagli sulla pagina Facebook dell'esecutivo, Associazioni Culturali Padova, hashtag Patavinitas2021.